adesso parleremo con fabio vedana prima vi dico chi è poi ve lo faccio vedere fabio vedana è un coach molto esperto si occupa di triathlon è stato commissario tecnico della nazionale italiana e anche della nazionale svizzera è specializzato nelle gare di endurance e di ultra endurance e è un collega di daniele daniele monterosi che fa il moderatore al mattino e che è un attore perché anche fabio ha partecipato a tutta una serie di reality se non se non dico una sciocchezza ma se dico una sciocchezza melodia me lo farà notare lui ci sei fabio ciao paolo ci sono come stai è vero è vero che hai fatto anche l'attore è vero nei reality si è vero infatti come tutti i buoni attori c'ho la paura del palcoscenico ma adesso quando sono salito mi gaso senti e tu ci parlerai di una cosa particolare nel senso che un allenatore esperto come te un coach esperto come te uno si aspetta che parli di qualcosa di tecnico di metodologia dell'allenamento tu invece ci parli del successo passo dopo passo hai ragione parlo proprio di questo e io allora voglio ascoltarti grazie paolo ciao fabio ci vediamo ci vediamo tra poco grazie paolo e grazie a tutti gli amici della sardegna aio allora parlo del successo il successo e ho cercato che cosa fosse la l'origine della parola successo l'ho trovato sulla sulla tre cani dicendo che il successo viene dalla parola latina successus che vuol dire succedere cioè accadere e in un senso più profondo vuol dire accadere in maniera positiva quindi avere una buona riuscita benissimo che cosa è successo a me io ho fatto i primi dieci anni della mia vita a fare l'allenatore ero un pessimo atleta mi sono messo a studiare ho fatto scienze motori ho fatto l'esef e ho passato i primi dieci anni della mia vita a cercare di capire che cosa funzionasse dal punto di vista tecnico quindi ho studiato la teoria dell'allenamento la periodizzazione la pianificazione tutte le le teorie scientifiche a riguardo e sono arrivato a quello che era il mio sogno che era l'olimpiade e ho fatto un fallimento totale all'olimpiade di pechino la prima olimpiade che ho fatto come responsabile i successivi dieci anni della mia vita li ho cercati di passare invece per diventare un buon coach e cosa vuol dire essere un buon coach è proprio dal termine inglese il coach è la carrozza e la carrozza è il mezzo che ti permette di arrivare al tuo obiettivo e quindi ho proprio cercato di fare questo con i miei atleti ho cercato di portarli verso il loro obiettivo verso la loro massima performance e questi sono stati dieci anni più belli della mia vita dieci anni entusiasmanti e poi ho fatto il mento e che è quello che sto cercando di fare adesso con un po di presunzione però è quello che mi sta stimolando tantissimo che cos'è il mentor e vuol dire ispirare gli altri attraverso il tuo essere e le azioni che fai ma per tornare ancora un po prima perché faccio questo faccio questo perché fin da subito quando ho cominciato a allenare ho capito che cosa mi rendeva felice ed era una sola cosa che mi rendeva felice vedere la luce brillante negli occhi delle persone che grazie al mio intervento potevano migliorare potevano realizzare il proprio sogno una cosa bellissima una droga e ho cercato di ripetere questo come un vero drogato perché ne volevo sempre di più sono un dipendente quali sono i chiavi i fattori chiavi del successo sono tre avere qualcuno che crede in te e che ti dia fiducia avere un piano e avere misericordia cosa vuol dire avere misericordia avere qualcuno che ti riempia il cuore di amore e che possa consolarti con il suo perdono sapete chi ha detto questo più di duemila anni fa l'evangelista matteo ecco questa è una cosa che mi ha colpito tantissimo ed infatti ho capito che per riuscire a far andare forte le persone per riuscire a farle performare bisogna entrare in relazione e per capire la potenza del messaggio di dell'evangelista matteo mi sono messo io in gioco io ho paura della fatica paura dell'altezza paura del freddo e sono ipocondriaco bene a settembre ho fatto il mio primo quattromila proprio mettendo in pratica l'insegnamento del dell'evangelista matteo ho avuto qualcuno che mi ha dato fiducia e ha creduto in me che era il mio amico alpinista mattia un alpinista eccezionale che citerò anche dopo ho avuto un piano l'ha fatto lui mi ha detto perfettamente che cosa dovevo fare per arrivare in cima e ho avuto amore amore perché mi sono portato i miei amici mio amico salvo che mi ha aiutato tantissimo per avere l'ambiente giusto bene ho realizzato il mio primo quattromila contro tutte ogni previsione mia stessa e ho vinto le mie paura e soprattutto ho capito la potenza del messaggio che avevo appena che ho appena enunciato l'altra cosa che ho determinato nella mia carriera è quella di avere individualizzazione cioè di vedere nella persona che si affida a noi come coach come mentor un capolavoro cioè vedere che attraverso di lui si può tirar fuori il meglio di questa persona in fondo come un artista il coach deve saper fare questo deve saper valutare la valutare ed esaltare la componente umana e la componente del sentimento dell'emozione delle persone e vorrei veramente che tutti voi riusciate a fare quello che ha fatto il tintoretto in questo quadro straordinario che è l'esposizione dell'angelo altre cose che invece mi sono venute dalla mia esperienza sono un po più semplici un po più banali che sono fissare obiettivi chiari e misurabili vi racconto una cosa il mio sogno era fare l'olimpiadi ci sono arrivato con la nazionale italiana e il nostro obiettivo era andare alle olimpiadi e fare un buon risultato invece quando sono passato a diventare coach con la squadra svizzera alla prima riunione che abbiamo fatto con tutti gli high performance coach e con il nostro head coach ivan la prima slide della riunione è stata prima e unica slide della riunione è stata get a medal prendiamo una medaglia obiettivo chiaro semplice misurabile abbiamo vinto l'olimpiadi di londra altro aspetto importante guardare la parte umana di noi e del nostro atleta cioè ascoltare il proprio cuore vedere la parte dei sentimenti siamo uomini e i sentimenti e le emozioni ci regolano e ci modificano addirittura il dna l'ultima cosa è farsi aiutare attraverso l'identificazione del sogno che c'è in ognuno di noi qual è la differenza tra il sogno di bambino e il sogno dell'adulto il sogno di bambino l'ho rappresentato in diego armando maradona che è mancato poco tempo fa ma che mi è stato illuminante quando da bambino in una intervista su un campetto di periferia delle favelas di buenos aires alla domanda dell'intervistatore diego qual è il tuo sogno lui dice ne ho due andare al mondiale e vincerlo ecco questo è il bambino che sogna e questo dobbiamo cercare nel nostro atleta la differenza invece con l'atleta maturo con la persona matura è che lui è in grado di costruire un sogno pensate mattia il mio amico alpinista che mi ha portato sul brighton a 4.164 metri ci ha messo 45 anni a capire qual era il suo sogno il suo sogno era fare l'impresa diventare un alpinista e conquistare il k2 ci ha messo poi cinque anni a realizzare la spedizione e sabato prossimo partirà con la prima spedizione in invernale alla conquista del k2 in invernale senza ossigeno che non è mai stato realizzato da nessuno altro aspetto determinante è avere un piano di lavoro ce l'aveva già detto matteo ma avere un piano di lavoro secondo me si sintetizza in una cosa semplicissima cioè elaborare le esperienze passate e prendere aiuto dalla scienza la scienza negli ultimi anni ci ha dato molte indicazioni pratiche su che cosa funziona cosa funziona meno cosa non funziona e quindi se noi prendiamo l'esperienza passata e quindi rendiamo gli errori e le scontinte vincenti abbinato all'esperienza della della scienza sicuramente mettiamo appunto un piano di lavoro efficace il metodo di lavoro il metodo di lavoro parta da quattro punti fondamentali nell'allenamento di resistenza il primo è la consistenza e la consistenza mi piace la piattaforma petrolifera perché la piattaforma petrolifera rappresenta la performance e la performance come la piattaforma che sta nell'oceano in balia dei venti dei mari delle maree è stabile e fissa se ha dei pilastri immersi nella nella nell'oceano fino a fino arrivare al terreno ecco questi pilastri rappresentano l'allenamento la consistenza dell'allenamento quanto mese dopo mese anno dopo anno stagione dopo stagione l'allenamento ci permette di dare una prestazione stabile la seconda cosa è il condizionamento e qui mi viene d'aiuto pirandello che nella suo uno nessuno centomila dice noi non siamo quello che siamo ma quello che di volta di volta diveniamo ecco questo è il condizionamento riuscire a dare il carico giusto nel momento giusto con il recupero adeguato e riusciamo a crescere di prestazione ultima cosa è cercare azioni semplici dobbiamo fare cose semplici non servono allenamenti miracolanti se faccio triathlon devo nuotare pedalare e correre non devo fare altro l'ambiente di sviluppo è quello che permette di focalizzare di realizzare l'impresa dobbiamo noi allenatori e coach crearlo l'ambiente di sviluppo idoneo e quello che per noi è più importante che ci sia contaminazione cioè ci devono essere culture pensieri strategie approcci differenti e ci sia poi una definizione dei valori condivisi alla fine di tutto questo l'ambiente ci deve aiutare a fare una cosa e qui leggendo un romanzo di william faulkner che è stato il nober della letteratura nel 1949 ho capito una cosa perché l'ha sintetizzata in maniera spettacolare non sforzarti di essere migliore degli altri cerca di essere migliore di te stesso e tutto questo funziona ricordiamo della misericordia se c'è amore se il contesto in cui lavoriamo è pieno d'amore quindi l'amore come centro della trasmissione delle emozioni degli sentimenti facciamo bingo noi dobbiamo amare quello che facciamo e il nostro atleta deve sentire l'amore che non gli diamo omar di felice durante la trans american bike che è una gara di 6.700 chilometri in solitare e non stop in autonomia nei momenti di crisi l'unica possibilità che aveva per continuare era di ascoltare la sua fidanzata che gli trasmetteva amore poi chiamava a me perché anche io cercavo di dargli il mio amore più possibile e se leggete il suo libro lo dice lo cita continuamente è l'amore che mi fa realizzare le più grandi imprese ma ormai ci siamo è giunto il momento di dirvi veramente qual è il segreto dei segreti e anticipo e non lo dirò io ma lo dirà Carlo che è stato un mio atleta adesso fa il preparatore atletico e il coach di una squadra della serie a di pallavolo francese il nizza mi ha lasciato questo messaggio esattamente sette giorni fa di notte perché veniva dal derby con monaco del derby più importante della della del campionato francese di pallavolo femminile e mi lascia questo messaggio a un certo punto sono entrato ho detto raga le figlie l'ho prese proprio tutte quante guardandole col sorriso con la tranquillità perché avevano bisogno di essere calme di riprendere la calma e gli ho detto ragazze stiamo perdendo 2 a 0 male che va perdiamo un altro set cerchiamo di giocare col sorriso giochiamo senza paura in allenamento non avete fatte le cose io non lo so ma sono sicuro che le fate e le fate anche bene giochiamo come in allenamento calzeggiate calzeggiate vedrete che piano piano si scioglieranno prendiamo anche questo set non fa niente ma giocate col sorriso siete qua per divertirvi siete pagate per divertirvi giocate col sorriso fabbio ci credi che alcune di loro hanno cambiato lo sguardo il capitano ha cambiato atteggiamento ha preso in mano la squadra è stato abbiamo vinto 3 a 2 gioca me guardavano e ridevano io che gli dicevo calma calma po pressione papur mi sono esaltato io per la prima volta da allenatore mi sono esaltato cioè penso non aver mai avuto così tante soddisfazioni da allenatore che da atleta cioè io ti devo solo dei grazie perché mi ha insegnato una cosa fondamentale che è il divertimento nella gara il divertimento nella gara sorridete divertitevi amate quello che fate e con questo riuscite sicuramente a raggiungere i vostri sogni e a realizzare la vostra miglior performance concludo con una frase che ho trovato in queste in questi giorni di alan zamboni il curious che dice abbiamo un corpo fragile il cervello sembra cresciuto per spaziare più lontano l'uomo è una proiezione è immaginarsi da qualche altra parte e un giorno riuscire a farlo ragazzi tocca a noi grazie fabio molto che dire molto peculiare molto molto simpatico ma molto profondo quindi tono simpatico per passare i concetti veramente importanti sui quali riflettere e io visto che siamo entrati quasi ci sei sì sì visto che siamo entrati quasi nella un po nell'ambito della filosofia dell'allenamento ti voglio chiedere una cosa tu che comunque sei un coach di grande esperienza che ha seguito atleti molto importanti secondo te è possibile essere un atleta vincente se poi nella vita comunque sei uno sciattone cioè intendo disorganizzato uno che magari si allena bene però poi il resto lo lascia andare trasandato e così via guarda dalla mia esperienza e ho veramente lavorato con tantissimi atleti d'alto livello e con tantissime persone normali che ricercavano il proprio sogno ti posso dire che io riesco a entrare in relazione con le persone intelligenti le persone che sono umane nel senso che sa che sanno cogliere la parte emotiva e emozionale di se stessi allora io riesco a performare al meglio perché riesco a vedere quella luce negli occhi che è la mia droga certo no io te l'ho chiesto perché di fronte magari un atleta anche con grosse potenzialità evidenti magari anche con dei risultati importanti alle spalle che però faccio una vita come posso dire abbastanza disordinata ma disordinata nel senso della noia non disordinata perché magari fa fa lo scavezza collo no scavezza collo lo alleno volentieri però fa una vita molto disordinata poco prestativa ecco diciamo si accontenta del disordine tutto io più di qualche volta mi sono ritrovato a dire guarda comincia a mettere in ordine la tua vita perché non vedrai che poi l'allenamento va meglio però pensare che la tua vita sia così disordinata ma che l'allenamento diventa eccezionale francamente non ci credo spesso mi è andato dell'idiota qualche volta il visionario però io sono convinto di questo volevo confrontarmi con te io la penso esattamente come te Paolo perché comunque l'hai performance è dentro di te e la devi cercare in qualsiasi cosa tu faccia certo e se l'hai performance te la devo mettere io hai sbagliato coach io non sono capace di far quello ho dato la stessa risposta sarà cosa ti può interessare grazie veramente interessante grazie grazie a tutti grazie speriamo di vederci presto a presto grazie ciao fabio passo la linea alla regia che me la restituirà in un attimo grazie a tutti grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti